In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo riguardanti questo fine settimana, puoi aggiornarci sulla condizione del tempo attuale? La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo, riconducibile ad un promontorio anticiclonico in quota di natura africana, determina condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione, con temperature prossime a 30 gradi centigradi ovunque. Nel corso delle prossime ore assisteremo ad un ulteriore consolidamento del campo di alta pressione, con temperature che subiranno un sensibile aumento. Come saranno invece le previsioni meteo per questo fine settimana e quindi per sabato 22 e domenica 23 giugno. Per domani, sabato 22 e giugno, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte la formazione di nubi innocue al primo mattino lungo le aree costiere, temperature stazionarie con valori massimi quasi ovunque superiore a 30 gradi centigradi, venti deboli prevalentemente da sud ovest e mari quasi calmi o poco mossi. Domenica 23 si indebolisce il campo di alta pressione, con conseguenti infiltrazioni di correnti meno calde che determineranno una lieve diminuzione delle temperature. Il cielo si presenterà ovunque sereno o poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti nelle aree montuose, venti deboli di direzione variabile e mari quasi calmi o poco mossi. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, come sarà il tempo previsto? A partire da lunedì assisteremo ad un'imponente espansione meridiana del promontorio africano, ma con traiettoria occidentale rispetto alla nostra penisola. La nostra regione quindi non sarà interessato affatto dall'onda di calore, la quale impegnerà in maniera severa il settore orientale della Spagna, della Francia e quasi tutta l'Europa centrale. In parte verrà interessato anche il nord Italia. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile, con temperature di poco superiori alla media del periodo. Qualche rovescio pomeridiano inoltre potrebbe interessare le aree montuose tra martedì 25 e giovedì 27 giugno. Estate dunque in gran forma e senza particolari eccessi, almeno per quanto riguarda la nostra regione. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i direi spettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it.